Un cavallo in ordine con una buona ferratura ha i ferri, i chiodi ben visibili, ben ribattuti, le barbette aderenti allo zoccolo, lo zoccolo che non sporge dal ferro. Controlliamo il ferro che sia in linea e che non ci siano delle malformazioni dovute a botte o altri incidenti che possono capitare.